ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco primo com doc generici srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa a primo con confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere primo comp durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa a primo con primo comb a un farmaco a base del principio attivo primonidina più timololo appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti e commercializzato in italia dall'azienda doc generici srl primo comp può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni primo comp 2 mg bar ml più 5 mg bar ml collirio soluzione 1 flacone 5 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare doc generici srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo primonidina più timololo gruppo terapeutico antiglaucoma forma farmaceutica collirio indicazioni riduzione della pressione intraoculare bio in pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto o con ipertensione oculare che non rispondono sufficientemente ai beta bloccanti per uso topico posologia per evitare la contaminazione dell'occhio o del collirio la punta del contagocce non deve venire a contatto con alcuna superficie posologia dose raccomandata negli adulti inclusi pazienti anziani la dose raccomandata a una goccia di primo comp nell'occhio barra negli occhi da trattare due volte al giorno circa ogni 12 ore se fosse necessario l'impiego di chi ha di un prodotto oftalmico topico i medicinali devono essere somministrati ad un intervallo di almeno 5 minuti l'uno dall'altro modo di somministrazione come per tutti i colliri per ridurre il possibile assorbimento sistemico si raccomanda di comprimere il sacco lacremale al canto mediale occlusione del puntino lacremale o di chiudere le palpebre per due minuti ci ha deve essere effettuato immediatamente dopo l'installazione di ogni goccia di collirio ci ha può comportare una riduzione degli effetti indesiderati sistemici e un aumento dell'attività locale uso in caso di compromissione renale ed epatica l'associazione brimonidina più timololo non ha stata studiata nei pazienti con compromissione epatica o renale è quindi necessario procedere con cautela nel trattamento di questi pazienti popolazione pediatrica primo comba controindicato nei neonati e nei bambini di età inferiore a due anni vedere paragrafi 4 3 4 4 4 8 e 4 9 la sicurezza e l'efficacia di primo comb nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni non sono state stabilite e quindi l'uso in questi soggetti non ha raccomandato vedere anche paragrafi 4 4 e 4 8 controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 malattie dai per reattività delle vie aeree inclusa asma bronchiale in atto pregressa broncopneumopatia cronica ostruttiva grave bradicardia sinusale sindrome del nodo del seno blocco seno atriale blocco atrio ventricolare di secondo o terzo grado non controllato con un pacemaker insufficienza cardiaca manifesta shock cardiogeno impiego nei neonati e nei bambini di età inferiore ai due anni vedere paragrafo 48 pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminossidasi ma o pazienti che assumono antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica esempio antidepressivi triciclici e miancerina avvertenze speciali e precauzione di impiego popolazione pediatrica bambini di 2 anni e pia di età specialmente quelli in età compresa tra 2 e 7 anni e barra o con peso a 0 20 kg devono essere trattati con cautela vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione con la combinazione fissa di primonidina e timololo sebbene non siano stati condotti studi specifici relativi alle interazioni con primonidina barra timololo bisogna tuttavia tenere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere primocomb insieme ad altri farmaci come a euro salmeida euro a euro saltia zema euro a euro sangi zema euro a euro sbilinda euro a euro sbrava euro a euro sbronco vale as sciroppo euro a euro sbronco vale as soluzione a euro a euro sbronco vale as sospensione a euro a euro sbutta per la euro a euro scleni il compositum 0,8 mg più 1,6 euro a euro scleni il compositum a euro euro a euro sbildi azem doc generic a euro a euro sbilti azem e mega euro a euro sbilti azem ny lang generics euro euro sbilti azep vratio farma euro a euro sbilti azem sanduza euro a euro sbilzene a euro euro sin usar la euro a euro si sopti compressa rilascio modificato compressa rivestita compressa rivestite a euro a euroc 있고 in soluzione uso interno a euro a euro smanielis a euro, a euro snosa a euro, a euro splenera a euro, a euro salbutamolo eipratropiobromuro a ga euro, a euro salbutamolo sandozza a euro, a euro soseria a euro, a euro stildiema a euro, a euro sventolin, sciroppo a euro, a euro sventolin, soluzione a euro, a euro sventolin, sospensione a euro, a euro sverapamil docgeneric a euro, a euro sverapamil ga euro, a euro sverapamil ex ala euro, eccetera. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere Brimocomb durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brimocomb durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati sull'uso di Brimonidina baratimololo in donne in gravidanza. Brimocomb non deve essere usato durante la gravidanza se non strettamente necessario. Per ridurre l'assorbimento sistemico, vedere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Brimonidina baratimololo ha una scarsa influenza sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brimocomb può causare un annebbiamento temporaneo della vista, disturbi visivi, senso di affaticamento e barra o sonnolenza che possono influire sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Il paziente deve aspettare che questi sintomi siano passati prima di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati Sulla base di dati clinici a 12 mesi, le reazioni avverse al farmaco, ADR, segnalate con maggiore frequenza sono state iperemia congiuntivale, circa il 15% dei pazienti, e sensazione di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Rare segnalazioni di sovradosaggio con Brimonidina baratimololo negli esseri umani non hanno mostrato alcun esito avverso. Il trattamento del sovradosaggio include una terapia di supporto sintomatica. Devono essere mantenute libere le vie respiratorie del paziente. Brimonidina Sovradosaggio oftalmico Adulti Nei casi ricevuti, gli eventi segnalati sono stati generalmente quelli già indicati come reazioni avverse. Sovradosaggio sistemico causato da ingestione accidentale Adulti Sono disponibili informazioni molto limitate sull'ingestione accidentale di Brimonidina negli adulti. L'unico evento avverso segnalato fino ad oggi è stata l'ipotensione. È stato riferito che l'episodio ipotensivo ha stato seguito da un rebound ipertensivo. Il sovradosaggio orale con altri alfa, due, agonisti ha provocato sintomi come ipotensione, astenia, vomito, letargia, sedazione, bradicardia, aritmia, miosi, apnea, ipotonia, ipotermia, depressione respiratoria e convulsioni. Popolazione pediatrica sono state pubblicate o riportate diverse segnalazioni di gravi eventi avversi a seguito di ingestione involontaria di Brimonidina da parte di soggetti pediatrici. I soggetti hanno manifestato sintomi di depressione del sistema nervoso centrale, tipicamente coma temporaneo o basso livello di coscienza, letargia, sonnolenza, ipotonia, bradicardia, ipotermia, pallore, depressione respiratoria ed apnea ed avevano richiesto, quando indicato, un ricovero in terapia intensiva con intubazione. Per tutti i soggetti è stato riportato un recupero completo entro 6-24 ore. Timololo I sintomi di sovradosaggio da timololo per via sistemica includono bradicardia, ipotensione, broncospasmo, cefalea, capogiri e arresto cardiaco. Uno studio condotto su alcuni pazienti ha dimostrato che il timololo non viene dializzato rapidamente. Proprietà farmacodinamiche Categorie farmacoterapeutica Oftamologici a europreparati antiglaucoma imiotici, agenti betabloccanti, timololo, associazioni, codice ATC, S01 ed A51 Meccanismo d'azione Brimocomba Composto da due principi attivi Brimonidina tartrato e timololo Proprietà farmacocinetiche Associazione Brimonidina più timololo Le concentrazioni plasmatiche di Brimonidina e timololo sono state determinate in uno studio in crossover e confrontando i trattamenti con le monoterapie e Brimonidina barra timololo Involontari, dati preclinici di sicurezza La sicurezza oculare sistemica dei singoli componenti è ben definita I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di Safety Pharmacology Tossicità A Elenco degli eccipienti Benzalconio cloruro Sodio fosfato monobasico monoidrato Sodio fosfato di basico epteidrato Acido cloridrico o sodio idrossido Per aggiustare il pH Acqua depurata Farmace equivalenti I farmace equivalenti di Brimocomba A base di Brimonidina più timololo sono Brimonidina e timololo EG Brimonidina e timololo Milan Combigan Fonte Foglietto illustrativo AIFA Agenzia italiana del farmaco Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate Per avere accesso alla versione PA aggiornata Si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA Agenzia italiana del farmaco Grazie per avermi seguito fino a qui Spero che la farmamax ti sia stata utile Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini Buon proseguimento Ci vediamo al prossimo farmaco esaminato Grazie per avermi seguito